Non vuole controbattere Vincenzo Niro alle obiezioni sollevate dalla consigliera regionale dell'Udeur annuncia Lattanzio che continua a puntualizzare una serie di irregolarità commesse dal presidente del Consiglio Vincenzo Niro. Secondo la Lattanzio la nomina di capogruppo all'Udeur che ricade su Niro è illegittima in quanto nessuna figura lo ha designato come tale. Per la Lattanzio Vincenzo Niro rivesse un ruolo illegittimo. L'incarico di capogruppo che di solito dovrebbe arrivare in seguito ad una consultazione dei componenti, il partito o movimento in questo caso non è mai avvenuto. Come dire, Vincenzo Niro se l'è cantata e suonata da solo. E sul doppio incarico che riveste sempre Vincenzo Niro, ovvero quello di capogruppo d'Eur e contemporaneamente quello di presidente dell'emiciclo, la Lattanzio non ha dubbi, illegittimo pure questo. Non vuole ribattere alle accuse il presidente, ci abbiamo provato a chiedere delucidazioni ma la sua unica risposta è stata non ho tempo per queste discussioni, andasse alla magistratura e aspettasse l'esito del procedimento. E poi aggiunge, se l'autorità giurisdizionale dovesse annullare lo stato attuale delle cose e riportare la vicenda all'origine, allora la Lattanzio sarebbe fuori dai giochi.